Sì, Presidente, guardi, rubo solo un minuto proprio per chiudere quanto prima il dibattito su questo regolamento perché, come diceva prima il collega Figlio Mene, è molto importante arrivare alla votazione e quindi a tutto il riter necessario per l'apertura delle liste e quindi di un nuovo servizio. Il maxiemendamento, l'abbiamo discusso prima, ripeto, raccoglie le osservazioni di tutti i territori, di tutti i municipi, delle consulte e di tutti i tavoli di condivisione e di concertazione che sono stati utilissimi affinché il regolamento fosse quanto più utile agli stessi fruitori del servizio stesso. Quindi, naturalmente, voteremo favorevoli al nostro emendamento.